Io sono Linda Magni, sono tecnico specializzato in riabilitazione equestre e tecnico paralimpico. La mia specializzazione parte da 7 anni fa, lavoriamo come centro con quasi 70 disabili in attività di ipoterapia e riabilitazione equestre e in più abbiamo questi ragazzi che nel nostro centro sono circa 7 che fanno attività, dico agonistica. Posso dire solo tre parole perché questo tipo di attività porta delle soddisfazioni che generalmente non si ottengono. È stato bello e ringrazio ufficialmente sia Rotary che Emanuele che hanno aperto questo corridoio di grande soddisfazione perché permette oltre a far vivere a questi ragazzi uno sport bello che gli dà tante chance, ma di condividere una squadra famiglia dove si possono divertire e dove ottengono tanto. Grazie.